Operazione antimafia contro il clan del rione Noce a Palermo. La polizia ha eseguito un'ordinanza cautelare firmata dal GIP nei confronti di nove indagati accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso e distorsione con l'aggravante del metodo mafioso. Di questi otto sono finiti in carcere, uno agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori sarebbero tutti esponenti della famiglia della Noce, le indagini coordinate dalla DDA. Il provvedimento nasce da un'indagine avviata nel 2020 dalla squadra mobile di Palermo e dal servizio centrale operativo della direzione centrale anticrimine. Cinque dei nove coinvolti nelle indagini sono già stati condannati a vario titolo per appartenere a Cosa Nostra. Nel corso delle indagini sarebbe stato individuato l'attuale capo del mandamento Noce e Cruillas, Giancarlo Carmelo Seidita, tornato al vertice dopo un lungo periodo di detenzione in carcere. La sua ascesa ai vertici di Cosa Nostra sarebbe stata favorita negli anni passati dai fratelli Lopiccolo, i boss palermitani, alla presenza dei quali peraltro sarebbe stato combinato, messo a capo del mandamento. Grazie alle sue relazioni avrebbe in poco tempo riorganizzato il clan, che era stato smantellato in seguito al numero rosi arresti. E' imposto nuove regole nel mandamento, documentate da riunioni registrate dalla Polizia Giudiziaria, incontri riservati dove si partecipava senza cellulare durante passeggiate lungo le pubbliche vie con i vertici delle altre famiglie mafiose. Seidita si sarebbe circondato di uomini di fiducia mettendo ai margini quelli ritenuti nel mirino delle forze dell'ordine. La Polizia di Stato, con l'operazione di oggi, ha ricostruito la nuova organizzazione del mandamento mafioso della Noce di Palermo, compreso chi aveva in gestione la cassa della famiglia. I nuovi vertici avrebbero fatto estorsioni a tappeto con l'imposizione del pizzo a tutti gli esercizi commerciali. Una strategia criticata da alcuni affiliati, poiché sarebbero stati vessati anche gli ambulanti e attività minori. Nel corso di una riunione del vertice mafioso sarebbe stato rimproverato al capo famiglia della Noce, Giancarlo Sedita, che nuove attività commerciali andavano sottoposte a un più incisivo controllo della famiglia mafiosa. Il boss avrebbe preso l'impegno a fare il possibile per riportare il territorio e le relative attività economiche sotto il totale controllo della famiglia mafiosa, nonostante i rischi connessi a una sua sovraesposizione nella riscossione del pizzo.